Alcuni articoli di stampa recenti hanno stigmatizzato le procedure per l'approvvigionamento di generi alimentari per le menze della Forza Armata. La Marina Militare tiene a precisare che l'acquisto di derrate alimentari si basa su disposizioni regolamentate da decreti legislativi e ministeriali ben noti agli operatori di settore che privilegiano, come sancito dal DM del 25 luglio 2011 del Ministero dell'Ambiente circa, l'obbligo di adozione dei criteri minimi ambientali, l'incremento degli standard qualitativi del servizio offerto a favore del personale, prevedendo ampio ricorso alla produzione biologica e di prodotti IGP, DOP e STG, in percentuali minime ben definite. Ne consegue che una compiuta comparazione tra gli accordi quadro e i precedenti strumenti negoziali adottati a livello locale non può essere effettuata esclusivamente sul prezzo di alcuni articoli, ma deve includere anche pertinenti valutazioni sulle caratteristiche merceologiche dei prodotti e sulle condizioni di insecuzione. La procedura di affidamento per tutte le basi della Marina Militare è stata effettuata nella massima trasparenza e conformemente alle norme in vigore, in particolare con riferimento all'inciso di cui all'articolo del 3 giugno 2020 circa una presunta pubblicazione semi nascosta del bando, si precisa che i bandi di gara sono stati pubblicati sulle gazzette ufficiali dell'Unione Europea e italiana, sul sito ufficiale della Marina e su 16 quotidiani nazionali e locali. Gli accordi quadro discendenti dai bandi di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Inoltre, dicono dalla Marina, l'istruttoria citata nel medesimo articolo è stata avviata dall'ANAC a seguito di un'istanza presentata da due ditte non partecipanti alla procedura di affidamento e in tale ambito in linea con le disposizioni del regolamento della citata autorità sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici è stato richiesto alla Marina Militare di fornire elementi di riscontro a quanto rappresentato da tali operatori. In merito in particolare alla mozzarella pugliese, essa fa parte di un elenco di generi aggiuntivi ma obbligatori in determinate percentuali in otteperanza ai criteri ambientali, il cui prezzo di riferimento va confrontato con prodotti merceologici dello stesso tipo. In ogni caso il listino integrato del contratto offre molteplici alternative di generi analoghi dai costi decisamente inferiori e in linea con gli standard commerciali locali rendendo possibile garantire con una scelta bilanciata il compiuto soddisfacimento delle esigenze delle mense di servizio.